Tutti i piloti di Formula 1 sognano di guidare la Ferrari e tutti gli appassionati di autosportive sognano di guidare la Ferrari. Tutti i piloti di motonautica sognano di pilotare un Pershing e tutti gli appassionati di nautica sognano di pilotare un Pershing. Noi oggi abbiamo un'occasione speciale, provare per primi il nuovo Pershing 9X. Oltre 28 metri di lunghezza e più di 5000 cavalli di potenza. La postazione di comando è organizzata con tre sedili e la poltrona del comandante è quasi al centro dello scafo. Sono comodamente seduto e ho alla mia destra le manette e alla mia sinistra il joystick. Questo comando agisce non solo sulle propulsioni di superficie ma anche sulle due eliche di manovra e poi sulle trolley facendo slittare le frizioni degli invertitori per avere la giusta spinta su ogni elica. Su una barca di 24 metri avere la possibilità, nonostante le propulsioni di superficie, di utilizzare un comando joystick è veramente facile, è veramente comodo. Guardate come ruota la barca. Posso scegliere qualsiasi direzione, marcia avanti, marcia indietro, traslazione laterale oppure una direzione mista. È fantastico. Ok, siamo usciti dal porto e ingraniamo le marce. Davanti a me ho tre monitor di controllo. Beh, posso scegliere qualsiasi cosa ma qui ho preferito mettere la carta di navigazione. Qua tutti i dati dei motori e quella console, beh, si alternano diverse telecamere ma non mi interessa e quindi la faccio sparire. Così ho una visuale ancora migliore su quell'angolo. Questa può essere la posizione ideale per le leve di comando. Qua ci sono i trim, delle propulsioni di superficie e qua gli interceptor. Con tutti questi comandi si può regolare l'assetto dell'imbarcazione. Ma se volete semplificarvi la vita, utilizzate questo strumento. Guardate, questo pannello di controllo che regola automaticamente il setup della barca a qualsiasi velocità, tenendo conto di diversi fattori, compreso il carico sui motori. Terremo d'occhio questo pannello durante la navigazione e osserveremo l'inclinazione delle propulsioni di superficie e degli interceptor che sono come dei flap ma più efficaci. Bene, cominciamo a navigare. L'equipaggiamento che abbiamo a disposizione su questo Pershing 9X è composto da due motori MTU, ciascuno da 2637,4 cavalli. Le propulsioni di superficie sono della Top System, il modello 105. L'imbarcazione è lunga 28 metri, larga 6 metri e 30 centimetri e il dislocamento varia da 68 a 79 tonnellate a seconda del carico. Pensate per esempio che il serbatoio del carburante contiene 9.000 litri e in questo momento abbiamo più di un terzo del carburante e il pieno d'acqua. Bene, allora vediamo cosa accade quando andiamo in planata. Ancora torniamo a osservare il nostro pannello. In questo momento, appena ho dato gas, le propulsioni di superficie si sono portate nella posizione più bassa possibile. Lo vedete? Meno 100. E anche gli interceptor sono scesi sotto lo scapo proprio per dare modo alla poppa di salire e alla prua di stendersi sull'acqua. E in effetti la visibilità da qui è ottima e immagino che anche l'assetto dello scapo sia già quello ideale. Sì, siamo in planata. 19 nodi. Beh, ma forse la minima velocità di planata è anche più bassa. Adesso la cerchiamo. Ecco, direi che è questa. 17 nodi. E adesso ci portiamo alle andiature di crociera. Un po' di gas. Il timone è elettronico. Guardate, imposto la rotta che voglio dare alla barca. Quando l'ho trovata lo lascio e lui riporta la barra al centro. Perfetto. Ah, nel frattempo siamo arrivati a 25 nodi e in questo momento il consumo di carburante è di 265 litri ora per motore. Il che significa che occorrono circa 20 litri per ogni miglio di navigazione. Quello che mi sorprende è la silenziosità dello scapo. Dai, in effetti non è solo un'impressione. Guardate. Intorno ai 65 di B.A. Fantastico per una barca così potente. Questo yacht potremmo definirlo uno sport fly perché ha la postazione di pilotaggio anche sul ponte superiore. Un piccolo flying bridge, però piacevole per pilotare all'aperto. E sopra sono riportati gli stessi comandi, la stessa postazione di guida con tre poltrone, come qui nella timoneria interna. La tuga è realizzata in un misto di fibra di vetro e fibra di carbonio, mentre il fly è totalmente di carbonio e questo favorisce naturalmente l'abbassamento del baricentro. Per migliorare la stabilità, inoltre, hanno installato due stabilizzatori giroscopici e li hanno posti proprio lungo l'asse longitudinale della barca. Già in fase di progetto della sala macchine hanno scelto la loro migliore posizione perché funzionassero appunto più efficacemente. Il Pershing 9X appartiene alla nuova gamma alata del cantiere, cioè quella dotata di caratteristiche ali che chiudono la tuga verso poppa e che connotano decisamente questa nuova linea firmata, come sempre, da Fulvio De Simoni. Beh, adesso però è arrivato il momento di passare all'azione perché è un Pershing, è una barca sportiva. Ho dato un po' di gas e la velocità progressivamente cresce. Siamo a 30 nodi. Intanto anche il setup ha cambiato la posizione delle propulsioni di superficie e ha anche tirato sugli interceptor per lasciar correre la barca. Il consumo in questo momento è di 350 litri ora per motore. Diamo ancora gas. Sentite il rumore dei motori? Sono partite le turbine. Si comincia a danzare sul mare. E infatti, guardate, gli interceptor sono esclusi, le propulsioni di superficie sono quasi a zero. Siamo a 35 nodi. 2200 giri motore. Significa che questa è la velocità di crociera di questa barca. Il comandante collaudatore mi ha detto che hanno attraversato l'Italia, partendo da Fano e arrivando sino qui a Cannes, percorrendo la bellezza di 1.100 miglia, con un consumo di carburante di 24.000 litri. Cioè hanno fatto tre volte il pieno. E sapete qual è stata l'andatura di crociera che ha tenuto? 35 nodi. Ah, fantastico. Ma è un piercing e se avete visto le altre nostre prove di questo cantiere sapete che le loro barche superano sempre i 40 nodi. Questa ci riuscirà? Il sistema ha escluso completamente gli interceptor. Le propulsioni di superficie sono al livello della superficie. Il regime è salito a 2425 giri minuto e la velocità è di 39 nodi e 7, 39 nodi e 9, 40 nodi. Oh, guardate! 41,9 nodi! Con questo yacht navigare è fantastico. Magari non si può avere un'altra cosa che in giornate come questa anche da qui dallo sport fly ma il persin 9x e merita di essere osservato in tutti i suoi dettagli e allora rientriamo in porto lo sport fly può essere personalizzato qui ad esempio abbiamo un grande prendisole e verso poppa un living dove potrebbe trovare posto anche un tavolo da pranzo più grande a prua un'area tecnica molto funzionale ma anche di design lo storage è ampio e si apre senza alcuna fatica più avanti un living che può essere riparato con un tendalino i terni e il colore dello scafo sono a scelta del cliente l'angar di poppa ha un portello di carbonio all'interno hanno trovato posto un tender di 385 centimetri e una moto d'acqua la sparks di brp il salone è molto ampio anzi guardate quanto spazio hanno lasciato intorno agli arredi si potrebbe per esempio scegliere un tavolo più grande qualche mobile contenitore in più e sicuramente un divano con più posti il pozzetto è ricco di buone idee come ad esempio il bordo rialzato del prendisole che serve da appoggiatesta il tavolo che scende e forma un altro prendisole la finestratura di due soli elementi si raccoglie poi scende e scompare completamente così non abbiamo bisogno di ottiche speciali come il grand'angolo questa cabina è davvero ampia ci sono tanti arredi eppure è ariosa su un lato la chaslong vicino l'angolo beauty dalla parte opposta una scrivania e dei mobili contenitori rivestiti di pelle si può scegliere se preferire due bagni uno per lei e uno per lui oppure un solo bagno e una cabina armata questo bagno in ogni caso è versatile e il cantiere consente di cambiare completamente il suo layout la cabina vip è a prua ma non ha la solita forma non sembra di essere neppure nel vertice dello scafo gli specchi che nascondono degli stipi fanno percepire una maggiore profondità su tutte le barche anche quelle grandi c'è sempre bisogno di spazio e qui abbiamo dei gavoni sotto il letto lungo i fianchi due cabine ospiti una con due letti e l'altra con un matrimoniale tutte le cabine hanno il loro bagno la cucina si trova sotto coperta nella zona equipaggio ma guardate com'è attrezzata la capacità del frigo e quella del congelatore sono da grande yacht questa è la zona di discesa sotto coperta alla zona equipaggio ma i marinai se vogliono possono uscire di qua per non disturbare gli ospiti ora quanto può costare questo gioiello si parte da un prezzo base di 7 milioni di euro e con gli optional si arriva a 8 milioni di euro ma se li hai comprala e io faccio l'ospite e io faccio l'ospite